Dopo Donatella di Pietrantonio con Lar Minuta e Remo Rapino con Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Livorio, ad aggiudicarsi il campiello ci prova anche Antonella Ferrari con Adelaide, edito da Castelvecchi, romanzo tra i finalisti della 59esima edizione del premio letterario istituito nel 1962 per volontà degli industriali del Veneto. Antonella Ferrari, scrittrice teatina che ha scelto di vivere sul mare a Francavilla con Adelaide, firma il suo terzo libro dopo l'autobiografico Nessun dolore del 2011 e Un amore di città del 2018. Laureata in giurisprudenza e già docente a contratto con l'Università d'Annunzio, con il romanzo selezionato per il campiello 2021, la scrittrice abruzzese racconta la vita di Adelaide, donna realmente vissuta nell'Ottocento e figura cardine della nobile famiglia teatina dei Maio. È arrivata questa sorpresa, quella notte non ho dormito, ho detto ma forse avrà sbagliato a mandarmi la mail, chissà. Invece poi la mattina mi sono alzata motivatissima, ho detto no, adesso si combatte, è un sogno. Per me è già una vittoria così, so di non, credo di non avere grandi chance perché come diceva donna Bondi, io sono un vaso di terracotta costretta a viaggiare tra vasi di ferro, però sono felicissima. Adelaide è un romanzo ambientato a Chieti nell'Ottocento, avevo in mente di scrivere una storia sulla carboneria a Chieti, sapevo che la famiglia Maio aveva partecipato molto attivamente. Poi studiando le carte presso l'archivio di Stato per documentarmi ho scoperto questa signora, questa donna descritta come la colonna portante della famiglia e mi ha colpito appunto questa donna forte che nell'Ottocento sappiamo che la donna non contava nulla, non poteva fare nulla e lei che addirittura amministrava l'ingentissimo patrimonio della famiglia e allora attorno a lei ho creato questa eroina intorno a quelle poche cose che ho desunto dalle carte, ho immaginato questa eroina che è diventata la protagonista del romanzo. Poi naturalmente ci sono molti altri protagonisti che animano, stuzzicano la curiosità e danno vita a una città come Chieti. Ci sono altri libri in programma, altre opere? Perché sappiamo che Adelaide è la sua terza creazione letteraria. Sì, ho terminato un libro intitolato L'Isuledda ambientato in Sardegna che è il mio luogo del cuore, San Teodoro dove d'estate molte volte vado a lavorare e quindi è ambientato lì. Anche questo parte dall'Ottocento per arrivare ai giorni nostri e l'abbiamo letto in due o tre persone, l'hanno letto e tutti dicono che è anche più bello di Adelaide quindi nel 2022 ci sarà questa novità. Grazie.